Passaggi extradimensionali Questa poi, non la sapevo, sembrano tutte porte, queste Porte extradimensionali Mi ispira questa, vediamo se riesco ad aprirla e a passare C'è una maniglia, la devo girare? No, non va in senso orario, in senso orario forse riesco ad entrare Oh, si sta muovendo, si, si sta prendendo Ma, ma questo che cavolo di punto è? Non mi sembra una cosa eccezionale o extradimensionale? Vabbè, rientro dentro e vedo se c'è qualche altro punto interessante dove sbucare Ma, ci sono, sono dove c'è l'ipogrifo Si sta muovendo, no, no, ti prego, non disarcionarmi Mi farebbe male, ah, piano Non correre così Ah, ti ho detto di non disarcionarmi Porca miseria, vai il diavolo, ipogrifo di sto cavolo Ma, questo è Max? No, non è lui Max, piuttosto, è un gatto appartenente alla famiglia dei Mein Kun Questo invece appartiene alla famiglia degli Abissini Degli Abissini, infatti Vieni con me, ti porto dove c'è Max Seguimi Eccolo Max Hai, ciao Max Ciao Ma mi sta guardando Ciao Max Niente, non risponde Peggio che vendere un commercialista